Unioni civili, continua la discussione del DDL Cirinna tra le polemiche, pesa il no dei 5 stelle. Siria, tregua ancora lontana, non si arrestano le tensioni tra Mosche e Damasco, trattative ferme. Nascono i caschi blu della cultura, Italia e Unesco uniti in una task force per preservare il patrimonio artistico. Sanremo 2016, numeri di Brignano, cachet, unioni civili e ascolti record per il festival. Esce oggi Deadpool, supereroe per adulti, dopo il successo e le polemiche negli Stati Uniti, l'anti-eroe della Marvel arriva nelle sale italiane. Roma Real, sconfitta con onore, buona la prestazione dei giallorossi ma non basta. Benvenuti nella nuova edizione del GRD Reporter Nuovo, un saluto da Gaia Mellone e Alessandro Berrettoni. Apriamo con gli esteri, Ankara, la Turchia è di nuovo teatro di un attentato terroristico. Il portavoce del governo turco ha confermato che l'esplosione di un'autobomba nella serata di ieri ha provocato 28 morti e 60 feriti, tra cui alcuni civili. L'attacco è avvenuto nel centro della città, nella piazza tra il quartier generale delle forze armate ed il Parlamento. Secondo il quotidiano locale Sotsku, l'attentatore era un membro delle milizie kurdo-siriane dell'IPG. Era entrato nel paese come rifugiato. Il presidente turco Erdogan, che ha rimandato suo viaggio in Azerbaijan, ha condannato l'attentato, affermando che oltrepassa i limiti dell'umanità e della morale. Ankara era già stato a bersaglio di un attacco terroristico lo scorso ottobre. E adesso apriamo la pagina politica e parliamo quindi di unioni civili. Siamo punto e a capo sul DDL Cirinna, visto l'annuncio del Movimento 5 Stelle sul no all'emendamento cosiddetto del super canguro, un emendamento presentato dal PD con cui si sarebbe andati subito al voto in aula. Nell'aula del Senato è scattata dunque subito la bagarre. Monica Cirinna, appunto prima firmataria del DDL sulle unioni civili, ha annunciato il ritiro dalla politica se non riuscirà a far passare la legge. Il PD intanto ha chiesto tempo e quindi mercoledì prossimo, soltanto mercoledì prossimo, dunque il 24 febbraio, si tornerà a votare con numeri molto incerti. Ce ne parla Andrea Bulleri. Slitta ancora di una settimana il DDL Cirinna, dopo che il Movimento 5 Stelle ha rifiutato di votare l'emendamento Marcucci, il super canguro che avrebbe consentito di evitare l'ostruzionismo delle opposizioni, a cominciare dalla Lega Nord che aveva presentato oltre 5.000 emendamenti. Esultano i centristi, è la vittoria del buonsenso, commenta il ministro Alfano. Spero che il PD riparta dalla maggioranza di governo. I democratici, alle prese con il pallottoliero e il Senato, sono ora davanti a un bivio. Andare avanti con la votazione articolo per articolo e rimettersi alla volontà dell'Aula o stralciare la stepchild adoption e approvare la legge con la benedizione dei cattolici e di area popolare. Ma sul punto la senatrice Cirinna, intervenuta ieri sera al Tg3, è irremovibile. Non si possono fare stralci in accordi a cordicchi fuori nelle segrete stanze, si vota. Chi vorrà stralciare l'articolo 5 voterà a favore dello stralcio. Quindi il testo non verrà modificato. Non può essere più modificato. E aggiunge su Twitter, se la legge sarà una schifezza, sono pronta a togliere la firma e a lasciare la politica. I grillini però non ci stanno a prendersi le accuse di tradimento che arrivano dal PD. Noi non abbiamo tradito, siamo qua a voler votare questa legge. Vogliamo semplicemente farlo senza usare dei sistemi autoritari. Perché ci sono 500 emendamenti, abbiamo gestito cose peggiori. Votiamoli e portiamo a casa questa legge. Questo secondo me si può fare adesso, in questo momento. Intanto le associazioni omosessuali annunciano battaglia e fanno sapere. Grillo è un democristiano. Contro di lui organizzeremo un Gay Vaffa Day. E continuiamo in Italia. Grandi scandali all'interno della pubblica sanità in Lombardia. Infatti proseguono le indagini all'interno dell'inchiesta Smile, che indaga su presunti giri di tangenti e turbative di appalti pubblici per il settore odontoiatrico della sanità pubblica della regione Lombardia. Sono 21 le ordinanze di custodia emesse ieri dal GIP di Monza. Al resto chiave è quello di Fabio Rizzi, presidente della Commissione Sanità Regionale e braccio destro del presidente della regione Maroni. L'accusa è quella di aver sostenuto, insieme al membro del suo staff Mario Longo, il monopolio di una sola società per le forniture di servizi odontoiatrici negli ospedali pubblici regionali. Si tratta della Odonto Quality, gruppo presieduto da Maria Paola Canegrati, che si sarebbe aggiudicata a palti per 400 milioni in cambio di favori e tangenti. Il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, ha immediatamente sospeso dal partito Rizzi. Infuriato anche il governatore Maroni, che in consiglio regionale ha dichiarato, sono molto incazzato. La regione sarà parte civile. Chiunque abbia sbagliato mi risponderà. Continuiamo con la cronaca, con la vicenda dei due detenuti evasi la scorsa settimana dal carcere romano di Re Bibbia. È stato bloccato il secondo evaso. Il fermo è avvenuto nella notte, nella notte scorsa, durante un posto di blocco, è avvenuto nella zona di Tivoli Terme, dunque sempre nella provincia di Roma. L'uomo aveva tentato una breve fuga a piedi. È stato però raggiunto prontamente dai carabinieri. Ieri sera si era costituito anche l'altro dei due detenuti evasi da Re Bibbia, appunto, connazionale, cioè rumeno, di quello fermato la notte scorsa. Rizziamo in Italia e nuovi arresti all'interno dell'Andrangheta. I carabinieri del comando provinciale di Milano stanno dando esecuzioni a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 28 persone. Sono ritenute responsabili di associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale degli stupefacenti, usura, estorsione e rapina. Gli arresti sono 27 italiani e un albanese, catturati in Brianza e nelle province di Crotone, Reggio Calabria e Bari. Almeno 11 di loro sarebbero affiliati all'Andrangheta. Adesso apriamo la pagina degli esteri, parliamo di Siria dove appare ancora lontana, molto lontana, la tregua. Gli accordi raggiunti a Monaco di Baviera sono stati subito disattesi con i bombardamenti di lunedì scorso, almeno 50 sarebbero i civili morti negli attacchi che appunto hanno colpito 5 ospedali e 2 scuole. Adesso è scontro sulle responsabilità dei raid con accuse incrociate tra Mosca, Damasco e Washington. Il presidente siriano Bashar al-Assad non è disposto a trattare con i gruppi armati antigovernativi che bolla come terroristi. Giorgia Pacino. Non si fermano i bombardamenti in Siria, neppure dopo gli accordi di Monaco. Lunedì due scuole tra Leppo e Idlib e 5 ospedali, tra cui quello di Medici Senza Frontiere, sono stati erasi al suolo. Almeno 50 civili hanno perso la vita nei raid aerei. Indiziate numero 1 restano l'aviazione siriana e quella russa, accusate dalle forze dell'opposizione di aver violato il cessate il fuoco. Solo propaganda turca per il Cremlino. Aleppo come Grozny, stretta in un assedio che dura dal 2012. Una città fantasma da cui fuggire. I profughi premono sul confine con la Turchia, che fa filtrare in direzione opposta a jihadisti anti-Assad. Ankara continua i bombardamenti per contrastare l'avanzata dei curdi siriani. Nessun intervento da terra per adesso, assicurano i turchi. Messi in guardia nei giorni scorsi dallo stesso Bashar al-Assad, che respinge ogni ipotesi di tregua con i gruppi armati antigovernativi. I cessate il fuoco si fanno tra eserciti e stati, mai tra uno stato e i terroristi, ha detto il presidente siriano. Intanto, l'esercito governativo, appoggiato dagli isciti libanesi di Hezbollah e dai miliziani iracheni, continua la sua avanzata verso nord. Nella guerra senza soluzione strategica né politica, il presidente americano Barack Obama insiste a invocare una fase di transizione che appare ancora lontana. In gioco, più delle tregue momentanee, c'è tutta la Siria, almeno quel che ne resta. La chiusura dei confini austriaci, delle frontiere, Austria che sta dimostrando come l'emergenza migranti diventi ogni giorno più insostenibile e tutto questo mentre si apre. Oggi a Bruxelles un vertice europeo che appunto durerà due giorni e che si occuperà proprio della gestione delle frontiere, ma anche dell'utilizzo degli hotspot e della revisione delle azioni umanitarie in atto. Oltre a questo, un altro tema scottante sarà la discussione della nuova proposta sul Brexit. È infatti sul tavolo un nuovo accordo proposto dal presidente del Consiglio europeo Donald Tusk per far restare la Gran Bretagna all'interno dell'Unione europea prima che si arrivi al referendum di giugno 2016. È un viaggio destinato a entrare nella storia quello che Barack Obama sta pianificando per la fine del mese di marzo. Si recherà infatti a Cuba. A riportarlo è la ABC che anticipa l'annuncio che verrà fatto nelle prossime ore dalla Casa Bianca, che lo renderà ufficiale. Obama sarebbe il primo presidente degli Stati Uniti in carica a regarsi sull'isola di Cuba da oltre 80 anni. Dal viaggio di Obama al viaggio di Papa Francesco, che invece si sta concludendo in queste ore, infatti Bergoglio è in volo, sta tornando dal viaggio apostolico in Messico. L'atterraggio all'aeroporto romano di Ciampino è previsto per le 14.45 di oggi e come ultima tappa per il suo dodicesimo viaggio apostolico da Pontefice. Bergoglio ha scelto Ciudad Juarez, città del nord del paese messicano, separata dagli Stati Uniti soltanto da una barriera eretta proprio dall'amministrazione nordamericana per fermare il flusso dei migranti dal Messico. Siete vittime di tante ingiustizie, ha detto Papa Francesco ai profughi e agli oltre 400.000 fedeli arrivati per salutarlo. Il Santo Padre prima di ripartire ha incontrato i detenuti del penitenziario di Cereso. Il suo viaggio era iniziato lo scorso 12 febbraio con lo scalo a Cuba durante il quale c'è stato un momento storico, cioè lo storico abbraccio tra Papa Francesco, il patriarca di Mosca, Chirilla. È stato firmato ieri l'accordo a Roma tra Italia e Unesco per la formazione di una task force italiana a difesa del patrimonio culturale. Alla conferenza tenutasi alle terme di Diocleziano era presente anche il direttore generale dell'Unesco, Irina Bokova, che ha siglato il patto con il ministro degli esseri, Paolo Gentiloni, il servizio di Lodovica Palazzoli. Uniti per la difesa del patrimonio culturale dell'umanità. Con questo obiettivo l'Unesco ha creato una task force pronta a operare per la salvaguardia artistica mondiale. Lo scorso inverno l'Assemblea delle Nazioni Unite aveva già approvato il progetto targato Italia per la tutela dei beni artistici a rischio. L'Italia è il primo paese che applica la risoluzione dell'Unesco e che crea una task force nazionale fatta dai nostri carabinieri per la tutela del patrimonio, fatta dagli esperti del ministero dei beni culturali e dell'università italiane, pronta a intervenire in situazioni di crisi per proteggere e recuperare o tutelare il patrimonio nel mondo. Un nucleo specializzato dei carabinieri sarà pronto per assolvere compiti formativi e operativi a protezione del patrimonio minacciato, sotto legida dello Unite for Heritage. Già in precedenza l'Italia ha difeso siti culturali, come nelle missioni in Kosovo e in Iraq. Preservare la cultura è un'arma molto importante per sconfiggere il terrorismo. Il ministro della difesa Roberta Pinotti. Proteggere i monumenti, cioè proteggere i beni culturali dove le civiltà si identificano è un modo di preservare quelle civiltà dalla barbarie e quindi è un modo di proteggere il mondo e di far sì che la barbarie non ci raggiunga. Una neonata unità di caschi blu creata per combattere la pulizia culturale, come è stata definita l'azione terroristica diretta alla distruzione di luoghi d'arte, simbolo di intere popolazioni, come i crimini commessi dall'ISIS con la distruzione dei siti a Mosul o gli sfregge all'antica Palmira. Perché preservare la cultura delle nazioni significa proteggere la loro più profonda identità. E adesso apriamo invece la pagina dello spettacolo parlando dell'ultima edizione del festival della canzone italiana di Sanremo, giunto alla sua 66esima edizione che si è appena concluso. Ci sono stati numeri da record, soprattutto per l'audience, ma anche polemiche sui cachet e poi alcune prese di posizione da parte soprattutto degli artisti che hanno calcato l'Ariston sulle unioni civili. Tutti i temi, appunto questi i temi del bilancio, nella settimana successiva alla vittoria degli stadio e ce ne parla nel servizio e anche con un'intervista Giulia Cavola. A cinque giorni dalla conclusione della 66esima edizione del festival di Sanremo è momento di bilanci. Degni di nota Carlo Conti, che ha già rinnovato la sua disponibilità per l'anno prossimo, Francesca Micheline, con la sua Nessun Grado di Separazione, e gli ospiti internazionali come Elton John, che hanno fatto discutere per il loro cachet. Un festival all'insegna anche della comicità, con quella riverente di Virginia Raffaele, tra le d'union delle cinque serate, da Bella e Rodriguez a Carla Fracci, non ha risparmiato proprio nessuno. Un palco difficile per i comici, quello dell'Ariston, ma c'è chi torna. È il caso di Enrico Brignano al suo secondo festival. Oggi Sanremo più che mai diventa una vetrina per parlare anche di unioni civili, basta mettere un fiocchetto arcobaleno ed ecco lì che fioccano le polemiche. C'è il dente avvelenato legato al canone Rai, che viene pagato adesso con la bolletta, quindi la gente è avvelenata. C'è questo dispendio di danaro che in alcuni casi non è giustificato, per alcuni, per altri invece lo è. A festival concluso non è mancata la polemica sui costi, che sembrano però essere compensati dai ricavi. Secondo le stime, sembra siano stati superiori alla media. L'obiettivo erano i 6 milioni di euro dell'anno scorso e sembra che sia stato più che raggiunto. Con 10.746.429 telespettatori, la 66esima edizione ha raggiunto lo share più alto degli ultimi 11 anni. Sono entrati in contatto televisivo con i festival 39.574.000 persone, ovvero il 67,5% degli italiani. Ancora spettacoli perché dopo una lunga attesa arriva proprio oggi nei cinema italiani Deadpool, diretto da Tim Stiller. Il film negli Stati Uniti ha sbancato il botteghino ed è anche diventato un caso vietato ai minori. infatti Deadpool parla di un supereroe irriverente e sboccato a interpretare l'anti-eroe della Marvel. Infatti Deadpool è anche un fumetto della nota casa fumettistica americana, è l'attore Ryan Reynolds. Ce ne parla nel servizio Roberta Sias. Arriva nelle sale italiane Deadpool, ottava produzione della saga degli X-Men, a vestire i panni del supereroe più scorretto e anticonvenzionale della famiglia Marvel, la star canadese Ryan Reynolds. Non estraneo al mondo dei fumetti, il protagonista della pellicola ha già ricoperto un ruolo importante in Lanterna Verde e in X-Men e le Origini Wolverine nel 2008, dove interpreta White Wilson, un mercenario spiritoso dotato di grandi abilità con la spada. Proprio da questo film nascerà il personaggio che dà vita a Deadpool. Wilson, il vero nome del personaggio, è malato di cancro e si sottopone a un esperimento che gli darà una forza mai avuta prima e l'umorismo perso nel tempo. Girato a Vancouver, il film è diretto da Tim Steeler e come in ogni pellicola Marvel che si rispetti, non mancano gli effetti speciali. Gli Stati Uniti hanno vietato il film ai minori di 17 anni, non accompagnati da un adulto, per alcune scene ritenute troppo violente. Deadpool può già vantare due record, un incasso di 135 milioni di dollari nel suo primo weekend di programmazione e il miglior debut di sempre per una produzione targata 20th Century Fox. Con più di 100 milioni di dollari nei primi tre giorni sugli schermi, ha superato Guerre Stellari, la vendetta dei Sith. Con parolacce, allusioni sessuali e tanto humor, l'eroe contro voi a Deadpool è pronto a invadere gli schermi italiani. Non avrò lasciato il gas acceso! E passiamo ora invece allo sport. Roma non è una città come tante altre, così ha detto Sergio Castellitto in apertura della cerimonia di presentazione del dossier Roma 2024 al Palazzo dei Congressi dell'Euro. A prendere per primo la parola è stato però il presidente del CONI, Malagò, che ha letto una lettera proveniente dal presidente della Repubblica. E poi è intervenuto anche Luca Cordero di Montezemolo, presidente del Comitato Olimpico, che invece ha illustrato le carte del dossier arrivato da Losanna, intitolato L'arte italiana dell'accoglienza. Un altro viaggio indietro nel tempo poi fino alle ultime Olimpiadi, ospitate dalla città eterna. Roma 2024 sarà figlia, anzi nipote, di Roma 1960. Le Olimpiadi potrebbero valere uno 0,4% in più del PIL e oltre 177 mila posti di lavoro. Non ci sono i numeri del budget complessivo, che si dovrebbe però aggirare intorno ai 6 miliardi. Continuiamo con lo sport, con la Champions. L'andata degli ottavi è andata in onda ieri sera. La Roma resiste per più di un'ora, ma le reti di Cristiano Ronaldo e Gesè spengono la possibilità di una qualificazione ai quarti. La compagnia giallorossa recrimina per un rigore solare non concesso dall'arbitro. Stasera le italiane tornano in campo per i sedicesimi di Europa. Il servizio di Michele Fratto. Ci ha provato la Roma, costretta solo nell'ultima mezz'ora a inchinarsi ai colpi De Blancos di Zidane. Il fortino difensivo che tutti si aspettavano non c'è stato e i ragazzi di Spalletti hanno giocato alla pari con le merengues per ampi tratti della partita. Una prima frazione di gioco caratterizzata dall'ampio possesso palla degli ospiti, con la Roma rapida e ripartenza grazie ai continui affonditi al Sharawi e Salah, i più pericolosi tre giallorossi. L'equilibrio in campo dura un'ora e viene rotto da una perla di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse di Madeira viene lanciato sulla sinistra da Marcelo, dribbling secco su Florenzi e destro che non lascia scampo a Scesni. La Roma prova a pareggiare con un bel tiro da fuori di Vancoeur, finito di poco a lato e recriminando per un rigore solare non ha segnato per fallo di Carvajal su Florenzi. Negli ultimi cinque minuti la beffa finale del diagonale di Hesse, che spegne in modo quasi definitivo le speranze di passaggio del turno per la squadra capitolina. Stasera le italiane tornano in campo nell'Europa League per l'andata dei sedicesimi di finale. Al Franchi la Fiorentina ospita per il secondo anno consecutivo londinesi del Tottenham. La Lazio vola a Istanbul contro il Galatasaray, mentre il Napoli affronta il Madrigal e gli spagnoli del Villareal. E si conclude qui l'edizione odierna del telegiornale di Reporter Nuovo. Un saluto dallo studio da Gaia Mellone e Alessandro Berrettoni. Alla prossima edizione vi ricordiamo che ci potete seguire su tutti i canali social, nella nostra pagina Facebook, sul nostro account Twitter e sul nostro sito, ovviamente, aggiornato quotidianamente www.reporternuovo.it. Grazie a tutti.